Val Bitonto, la semifinale playoff del girone H di Serie D, giochi chiusi nel primo tempo al Città degli Ulivi contro il Fasano, merito delle reti di Santoro e Lattanzio, inutile il centro di Camarà per il definitivo 2-1. Le formazioni, Alessandro Potenza sceglie un Bitonto a trazione anteriore, nel 3-5-2 ecco Taurino e Pierulli come interni e Danna laterale sinistro, attacco affidato a Lattanzio e Santoro. Danucci risponde con un 4-4-2 in cui Gomez-Forbes sostiene Sosa, riferimento avanzato, Battista e Calabria in fascia con licenza di stringere. Priquel con il premio, Gaetano Naglieri assegnato a Simone Danna, il riconoscimento Giuseppe Rossiello dedicato al giovane che più si è messo in luce va a Savio Pierulli. In tribuna anche Roberto Taurino, neo allenatore dell'Avellino ed ex Bitonto. Quattro giri di lancette e i padroni di casa vanno a segno con Addà e bravo a battere Suma con un destro al volo, tutto annullato dal fischio dell'arbitro Torre Gianni che vede un fallo di Santoro in area. Più Bitonto in avvio, Petta va più in alto di tutti sul corner di Taurino, stacco imperioso, mire imprecisa. Smaltiti i pericoli iniziali, il Fasano inizia a guadagnare metri. Capomaggio pesca Gomez-Forbes destro impattato dalla Cassia. Ancora la Cassia si ripete murando l'avversario a metafrazione ma nell'occasione rimedia un problema muscolare. Dentro Guarnaccia, Bitonto che passa al 4-4-2. Il Gran Caldo, colonnina di Mercurio oltre i 30 gradi, non aiuta la partita a decollare. Poco prima della mezz'ora, enorme chance per Santoro. Taurino approfitta di un'indecisione della difesa fasanese e serve il centravanti che si fa ipnotizzare da Suma in uscita. Preludio al vantaggio Bitontino, Santoro raccoglie in area, mette nel mirino la porta e batte Suma sul primo palo facendo passare il pallone tra le gambe di Camarà. Svolta nella partita, 1-0 al 35esimo. Il vantaggio permette al Bitonto di giocare sul velluto. Una combinazione Santoro-Danna libera l'attanzio al tiro in area del col tampone numero 19. Calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Lattanzio che guarda negli occhi Suma e lo spiazza. Pallone da una parte, portiere dall'altra e 2-0. Gol che conduce al riposo dopo tre minuti di recupero. Si riparte senza novità e con una costante, il Gran Caldo. Il primo tentativo è del Bitonto, pallone che passa per Lattanzio, Danna e Santoro fino a liberare il destro di Stasi sull'esterno della rete. Si fa vedere anche il fasano. Sosa sgasa a sinistra. Battista non impatta il pallone. Del Colsi ma trova la respinta di Lanzolla. In campo aperto il Bitonto fa male. Taurino calcia dal dischetto e trova l'opposizione di Bianco. Poi è Palumbo a controllare bene ma angolare senza precisione. Pasticcia Cannizzaro sul calcio di punizione di Battista. Il tapin di Capomaggio è vanificato dalla segnalazione di fuorigioco. Bitonto ha un passo dal trissa metà frazione. Danna si presenta davanti a Suma ma il portiere è fasanese. Bravo a restare in piedi. Si esalta anche Cannizzaro dall'altra parte. Gioco di prestigio di Calabria che libere il sinistro. Il portiere Bitontino è attento in tuffo. Il gioco si ferma per sei minuti alla mezz'ora a causa di un malore per uno spettatore presente ingradinata. Necessario l'intervento dei soccorritori e degli staff medici delle due società. Risultato? Recupero di sette minuti e fasano che accorcia al 94esimo con Camarà. Bravo in proiezione offensiva a battere Cannizzaro su invito di Capomaggio. 2-1 che dà un senso al finale. Il Bitonto non rischia però più nulla e strappa il pass per l'ultimo atto dei playoff del girone in programma domenica 29 maggio a Francavilla in Sinni contro la squadra dell'ex neroverde Nicola Ragno che a sua volta ha superato per 2-1 la nocerina.